L'obiettivo è stop alle lacrime dei bimbi e al dolore dei grandi. Ecco il tampone antigenico rapido in dolore, lanciato dall'azienda Anconetana Inoliving, prodotto da Zhejiang Orient Gene Biotech, colosso dei test in vitro. Ecco a chi è destinato questo tampone. Il test funziona come un antigenico normale, risultato in 15 minuti, ma il tampone non arriva in profondità, fermandosi alla superficie interna delle narici. Va eseguito su pazienti esclusivamente da operatori sanitari. Ad oggi sono 2.700 le strutture sanitarie con cui collabora il gruppo Anconetano, dal Sacco di Milano al gruppo COS Santo Stefano, quindi gli screening aziendali in numerose aziende anche marchigiane. Grazie a tutti.